Per me Molleale è una famiglia, è il mio sport, divertimento, è stata la nostra seconda casa, è la mia felicità, è la mia casa, la mia famiglia, per me l'ok è tutto, da tre anni per me è più che una squadra, il mio posto felice, possibilità di crescita, passione, amicizia, un'occasione, il mio sabato sera, il colazzetto per noi a casa, Molleale è una mia grande passione, Molleale mi ha fatto scoprire lo sport che amo, Tinaggio è il mio sport preferito in assoluta, è dove conserviamo i nostri ricordi di belli, l'ok è la passione dei miei figli, ok Molleale è la mia passione, donate anche voi, contiamo su di te, dacci una mano a ricostruire la nostra tana, insieme siamo più forti, aiutateci a ricostruire il campo, aiutateci a continuare a fare questo sport meraviglioso, con l'aiuto di tutti possiamo ricostruire, aiutaci anche tu a ricostruire il palazzetto, fai una piccola donazione, Aiutateci a ricostruire il palazzetto, dona anche tu, aiutaci a ricostruire il nostro palazzetto, aiutami a ricostruire la mia casa, aiutateci a ricostruire la nostra segna, grazie tante, grazie mille, grazie, 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 grazie a tutti, thank you, grazie, 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 Ok, amicizia, sport, spritz, e dateci la mano!